Ciao a tutti ragazzi, sono DJ Razelix e bentornati su Uncharted 4. Oggi vi spiegherò come si ottiene il trofeo Storia Perduta. Per ottenere questo trofeo dovrete ottenere tutti e 23 i documenti presenti all'interno di Uncharted 4. Prima di ottenere questo trofeo ne otterrete un altro, che è Documentatore. Questo trofeo si ottiene semplicemente prendendo un documento, che potete fare tranquillamente prendendo il primo documento che vedete nel video all'interno del capitolo 8. Una piccola precisazione, i documenti da cercare e quindi da ottenere sono in tutto 22. Sono 23 perché alla fine del capitolo 18 Elena vi consegnerà un documento che comunque viene considerato ai fini del trofeo, ma non potete perderlo perché ve lo consegna lei stessa. Detto questo ragazzi vi lascio al video e noi ci sentiamo per un prossimo video di Uncharted 4. Ciao dal vostro DJ! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Cos'è? Grazie a tutti! Grazie a tutti! Vado a dare un'occhiata! Buona caccia! 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 Un'altra 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 Accidenti, questi pirati non scherzavano? Un'altra Un'altra Scorte di una spedizione precedente Ok Che cos'è lì? Un'altra 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 Natan, guarda, è una nave! Quel che ne resta. Non importa più niente della nostra avventura. Che cos'è? Un'altra lettera antica. Grazie. 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 Pessima giornata, eh? Grazie. E cos'è? Grazie. Aspetta, che storia atroce. L'equipaggio di Byrne sta... E cos'è? E cos'è? E cos'è? Questa lettera è ancora leggibile. E cos'è? 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 Grazie. 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 Ho trovato qualcosa. Mi stupisco che sia ancora intatta. Nathan, di qua. Ciao. Oh, un altro. C'era questo sugli scaffali. Ah, chissà chi ci abitava. Probabilmente il custode dell'ascensore. Il custode dell'ascensore? Conosci un altro modo per effettuare controlli di sicurezza sui pirati? Ok. Ah, si erano imbattuti in qualcosa di grosso. Grazie. 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 Povero pirata, riposa in pace, amico. Di qua, attenta alla testa. Qualcuno ce l'aveva con questo tizio. Ah, un'altra annotazione antica. Un'altra annotazione antica. Guarda, qui c'è qualcosa. Era destinata a Richard Wont. Firmato Adam Boldridge. Erano i tali fondaci. Ah, cos'è? Grazie. 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 Santa cielo, mi ricorda il signore delle mosche. Vuoi dirla forte? Grazie. 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 Questa cos'è? Che Dio possa perdonarmi. Il documento numero 21 ve lo consegnerà direttamente Elena poco prima di entrare in quel salone a due piani che sembra una grossa libreria. Mi dispiace ragazzi ma la Playstation purtroppo non mi aveva salvato quel video e pertanto non ve lo posso vedere ma si trova comunque alla fine del capitolo 18 ed è impossibile che voi lo manchiate. Scusate ancora. Grazie. 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 Che cos'è? Oh, è inipote di Burms. Oh, è inipote di Burms. Oh, è inipote di Burms.